In cinque giorni sarai all'ottanta, chiuso da solo dentro una stanza E nemmeno il tempo per esultare, che con il Death Knight vuoi ricominciare Ma il Death Knight che figata è, purtroppo un problema C'è, ce ne sono milioni, sembra l'attacco dei cloni Era da più di un mese che le stanze vecchie facevamo a te E dopo tutto ci scommetterai, c'è pure il New Byron Forge con il P6 Ridotti e bimbi micchia che corrono dietro agli achievement Più ne fanno e più ne spuntano, pure i nonnerci diventano In cinque giorni tu vuoi... 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 La Blizzard Misa ci ha fregato ancora E con sta espansione sto in coda un'ora Sul forum scriveremo in italiano Gli abbandoni di insulti quando crashiamo Mi so se un giorno al centesimo Metteranno un server a Bergamo oppure a Catania Così io smetterò di ganta Beh, ci rivediamo all'ottanta Arrivano